Ciao a tutti ragazzi, io sono Fizzi e oggi giocheremo a Minecraft che aprirò con voi in 1.12.2 senza mod Si sta aprendo ragazzi Aspettiamo 5 secondi A me si sono tolte le shaders quindi ho dovuto rimetterle ma a me non si scaricano più ma ora le ho rimesse speriamo che le ho rimesse perchè le ho messe nella cartella %applata.minecraft shaders box Scusate per la voce Ma mi sono svegliato poco fa All'idea ci trovano da un uomo Oh Ragazzi andiamo un'altra su option Vito settimo shaders Ecco ragazzi Aspettiamo Ok ragazzi Ora Vi farò come sempre La Vi sono trovato persa Andiamo in outdoor Il Pizzicraft 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 Speriamo che non mi va A scatti Però mi sembra che le scelersi da me Mi fanno bussare Che pensare oggi Aspettiamo Aspettiamo una cinquina di anni Una decina di anni 500 mila anni dopo Ecco Ecco Mi sta taggando Mi sta taggando Mi sta taggando Ok Ok 7 FPS Unice FPS Perché Ragazzi Facciamo Certo di cfps Aspettiamo Certo E Certo 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 Perchè devo fare 18 FPS? Perché Che è palle Alle Le La 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 a così si fa una bella spada aspettate raga prendo la spada raga non ce l'ho qua apposta facciamo questo lascia perché devo lasciare la crafting critico critico il pollo ehi su voglio il tuo pollo ragazzi mi raga a morte no ragazzi una ventina ok ragazzi va più veloce ora possiamo giocare normalmente io in questo video ragazzi non lo taglierò perché guardate quanto è bella oh mio dio da quanto tempo ragazzi splash colpo no no ragazzi colpo 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 critico colpo critico colpo critico colpo ma è più forte ma è più forte lascia ma non me lo potevi dire prima ok vabbè ragazzi io scappano sempre sti maialini maialoni ok 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 ragazzi ci facciamo una palettina mettiamo l'acqua questo così ce lo riprendiamo ragazzi mi sono stancato devo fare questo ok ora mi vanno bene oh ragazzi oh ragazzi già del carbone non ragazzi mi devo fare prima quello che mi stanno allora no ragazzi non lo potevo vabbè faccio gli stick posso fare così ragazzi dov'è dov'è ecco quella è la cobblaston la metto ragazzi ehm nei commenti scrivetemi i vostri nickname di minecraft se avete il rielmo da pc mi scrivete il nickname e io vi inviterò così giocheremo insieme se volete ai 20 iscritti ci sarà una sorpresina se che non lo so ancora ragazzi no ma no non saprò non so vabbè insomma ora pensiamo ok dov'è ah ma sta qua ragazzi che c'è qua che sono ok dov'è ecco dov'è là torre 12 12 12 perché sto lavorando così una bella cosettina devo fare così un attimino no ragazzi con 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 le shaders aspettate ragazzi metto qua la torcia metto quel piccone e sembra un ferro ragazzi sembra un ferro vedete vedete ma invece in pietra ragazzi oh mio dio minecraft 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 ragazzi semmai mi servirebbe un po' di ferro se facciamo un bel piccone mettiamo questo qua scusate scusate ho sbagliato il caftico non voglio la pala voglio la spada ok abbiamo 19 possiamo fare no mi riso no aspetta posso fare una bella ascia e la un po' la sciola il pietro un po' il pietro così ok ragazzi aspettate che metto qua ok eh questo 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 si vedi che io ti ho mandato ieri no no sto facendo un video dai no ti volevo solo dire che ieri sul tuo oh no dopo me lo dici tu sempre video mi rovini ah i video sono facendo non l'avevo capito vabbè ragazzi scusatemi non l'avevo capito e nel sinistro via ok viene sempre quando faccio i video se non quando non faccio i video non viene mai quando faccio i video adesso quando viene possibile ragazzi ragazzi come stai pensiamo al video francesco facciamo il video prendiamo tanto carbonio ok facciamo così è quasi da mangiare oh 22 buono ragazzi se vedete che ogni tanto mi muovo e sono io che sto accarezzando con i piedi il mio cane che si è messo sotto il me quindi aspetta ok andiamo su no andiamo adesso su è ancora giorno ragazzi è ancora giorno ragazzi è ancora giorno devo salvare coordinate non non sono anche come dove si vede le coordinate ah la ok ok arriva posso dove scappi dove scappi ui madonna non colpa raga è che la spada incentata scusate raga voglio vedere quanto quanto toglie 9 5 madonna non mi conveniva neanche che scusatemi non mi conveniva che facevo la spada ma raga sta cosa mi ha rotto eh però ok mettiamo questo aspetta che no così oh mannani a te guarda mi sono rotto metto questa sta facendo a notte dobbiamo chiudere non voglio amare perché vedete che aspettate è hard la difficoltà quindi sarà giusto un pochino difficile no ma giusto un pochino ragazzi questa sarà una serie con voi eh ho fatto già ho fatto già tre con la pala ok con la pala scusa 3 9 5 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 5 4 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 8 10 11 6 8 8 8 11 8 9 9 9 10 10 10 10 11 10 10 11 10 12 12 a fare, a fare, a uccidere i zombie perché sennò domani mattina mi restano i nostri mi restano paura con le shaders è che è realistico, aiuto fa paura ha paura pure il mio cane un letto perché non posso non so già do 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 no raga fa una paura fa paura aiuto ragazzi ho paura già ho paura nella vita reale pensate qua no raga come dicevi quando penso quando non è per fare il baule si ma c'è questo sentite la scarpa no no devo andare da lui devo andare da lui mi serve il suo arco dove sei? dov'è? arriva scompaio qua c'è aeroprime di sicuro aspetta fu cad qua sopra raga è possibile che non lo vedevo sentite la sentite ah ma ragazzi io non vedo mai sui rumori mannaggia mannaggia vedete pochissimo va rega aspettate sentito quello scheletro maledetto ma ragazzi vi alzo il volume anche sentite sentite aspettate ahhh mettiamo 3 come servirebbero dalle pecore ma è vero se deve essere è giorno se non è giorno vedete eh dio c'è pure dio metteteci si stanno toccando la vicenda devo fare una cosa che ho fatto così ecco ti stanno girando da soli no ora voglio capire quanti sono che schifo è giorno dai morto una morto mori mori ma ma raga ho poca vita gente questo fa meglio vabbè perché non recupero la vita ora ora morite voi voglio il tuo grazie mi ha droppato lo scherzo aspettate la freccia ok 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 ho un arco Oh carico raga E' carico al 100 Guardate Boh Boh mio Ecco Ma le frecce Scusami Cosa faccio? Oh niente Andiamo un po' Tobi Andiamo un po' sopra Eh la madonna che sole Andiamo a prenderlo Un po' di qua Forse non devo mettere Dov'è? 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 Resetting Shaders Qua si può andare su Qua andiamo giù No dobbiamo andare in miniera Una miniera Mi serve almeno una miniera Mi serve ferro Diamanti Oro Quello Un secondo No dobbiamo andare in miniera Un secondo Dov'è? 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 No No regà Faccio Così Se lo volete fare Basta Mi mettete Un piccone qua E un altro qua Tipo Sono tutti due scarichi Come questo e questo Uno qua Uno qua Ma A me non sono uguali Piccone e piccone Quindi non me lo fa Come ho fatto prima Lo potete fare Blockchain Ok 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 Dico ok a caso Perché non so niente Come si fa Poi Poi Nei commenti Cosa facciamo in passato In passato In futuro In questo In questo Vanilla Insieme Tipo Nella Fizzicraft No Sì No Comunque ragazzi Per me Da me È tutto E E questo video Andrà a finire Proprio qua Bella Alla Grazie.